Fu attarello, si, l'estero Mi do mettermi la mia pesa perché mi fa male Oh, cavolo, è l'unico modo per salire sull'Onnipotente senza farti vedere Perciò dovrai rubare Notizia bomba, gente, i caduti sono in movimento Sembra che non abbiano imparato la lezione Quegli stramaledetti avvolto i caduti Spuntano sempre quando non servono Tipo gli stregoni quando... Continua pure Credo, no Ok Guardate te con gli univill No, non so qua Però Non pare Non è che a due, però Oh, non è quello lì in fondo con l'azio Bomba, che f***a Bombola Ma che buona Una bella f***a Da dentro la stanza Questa lo devi fare con il karma Ma che sia troppo tardi Ma se è primo dentro la stanza poi Non è così E ti mette riparato E quello è utile, sempre le bombette dentro Le bombette dentro Noi, non è tutto Poi, non è tutto W c'avrà fame dai la pizzo oh oi cattroia c'è uno di quelli è un servitore ma come si chiama no 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 ecco aumenta rango ok ok ma Luca che fine ha fatto tu non hai spinto è andato a mangiare la nutella non hai la parvo eh infatti la peperonella no la peperonella con la nutella è andato a mangiare la nutella è andato a mangiare la nutella ok 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 eee andato ok 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 eee no ok 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 abbiamo fatto un bambino viola Sì, non è un sacco di fari, no ma hai calato stare dentro suonità. Hai mè l'ho, hai mè l'ho. la via è libera, ora portami alla nave di tubos benissimo, questa è la parte dove la prendi in prestito questa coprimi, devo riuscire a capire come funziona proteggi quella nave eccoli, eccoli dove c'è la nave, ma dove mi costa ah, quello è uno stoggio, è uno stoggio bella Calimè bella lì, ma lo stai in eccesso a me lì a me lì i vui a chi un po' ch'è la guà bordo ok ah, viva lì in fine ok, io la lì un grano un grano un grano un grano comandato oh che mamis non sento urla strazianti sei ancora in vita a differenza di qualcuno che conosco c'è chi sa gestire la tecnologia nemica ehi i teletrasportatori vex non sono giocattoli che manca l'ultimo alla via alla via al coso un zon la qua è incerto guarda quello che vuoi che sta là sopra questa sta zitto cazzo cazzo meccati c'è più nessuno stanno sopra quelli va da va albero pinerino non dai giù aiutilezzo non dai 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 non nemmeno A differenza di qualcuno che conosco, c'è chi sa gestire la tecnologia nemica. Ehi, i teletrasportatori Vex non sono giocatori. Ah, va molto in giù, vogliamo. Olè. Molto in giù, che ti aspetta qua? Ah, quello che sta là sotto, che è più di puttana. Non c'è il giù che ti aspetta qua? Sto male. Non c'è ancora la mia, un po' la cosa. Non c'è ancora la mia. Se non c'è ancora la mia. No, no, no. 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 No, no, no.